partita per i cuori forti qui a San Bapolis nonostante il punteggio di 3 a 0 infatti nel secondo sette a Perugia era avanti di cinque punti però le trentine sono state brave a recuperare e a mettere il naso avanti per portare a casa il secondo sette poi condurre sempre con scioltezza anche il terzo la differenza la possiamo vedere soprattutto sulle battute tre punti e scusate tre errori e sei punti per Trento otto errori e solo tre punti per Perugia questo ha fatto sì che poi gli attacchi venissero un attimino più forzati e sono stati perciò dodici gli errori in attacco da parte di Perugia contro il 6 di Trento sei muri per parte e anche la ricezione sia più o meno equivalza però diciamo che come dicevamo prima la differenza l'ha fatta la maggior incisività delle battute trentine Trento che dopo due turni casalinghi porta a casa sei punti inaspettati e si prepara la trasferta di Firenze in maniera molto serena conscia di aver non dico quasi raggiunto comunque essere a buon punto per centrare l'obiettivo stagionale che è quello della salvezza nella massima categoria molto lavoro invece da fare per coach Bovari per cercare di assemblare al meglio le campionesse a disposizione del suo nel suo team è stata una partita molto complicata loro sono una grande squadra però noi siamo riusciti a studiarle molto bene grazie all'allenatore ovviamente a tutto lo staff e ci abbiamo messo tutta la grinta di questo mondo e non abbiamo mai mollato perché avevamo un obiettivo e l'abbiamo raggiunto